Musica Mercoledì 27 luglio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. Iniziamo l'appuntamento con la rassegna stampa, leggendo i principali titoli del quotidiano online Tutto Molise. La visita del premier Matteo Renzi in Molise, il tour partito da San Giuliano di Puglia fino ad arrivare all'Unilever di Pozzilli, passando dal pastificio La Molisana, è tappa principale l'Unimol per la firma del patto per la regione Molise. Il maxifurto di farmaci antitumorali è avvenuto alla farmacia dell'ospedale veneziale di Isernia per un ammontare di circa 240 mila euro. È stato presentato in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio il nuovo cartellone degli eventi estivi protagonisti nel mese di agosto. Proseguiamo leggendo la prima pagina del quotidiano del Molise, che apre con la visita ovviamente di Renzi al Molise. Abbiate fiducia nel futuro firmato all'università. Il patto per il sud non è una lista per la spesa, ma esempi di concretezza, frattura, il governo salvi, la corte d'appello tagliato, già il possibile. Lateralmente troviamo invece i punti cardine del discorso di Renzi in Francia. In apertura la condanna al terrorismo islamista. Il risarcimento a San Giuliano di Puglia è il momento più toccante. Faccio il tifo per Pompeo. Infine Unilever, il saluto vado via colmo di valori. Mentre nel taglio basso, Ielsi, ieri la sfilata dei carri, la festa del grano, patrimonio molisano. Poi Cerro, estorsione e usura, ha arrestato il Cravattaro, Termoli scippata mentre dà l'acqua alle piante. E infine lo Sport Serie D. Il Campobasso rinuncia alla domanda di ripescaggio. Liberti, concentrati sul consolidamento societario. E infine l'eccellenza Venafro, in panchina Iannarelli e Gentile per il mercato probabile, il ritorno di Felici. Proseguiamo leggendo la prima pagina di Primo Piano Molise. Che apre anch'esso con Renzi nel Molise, che esiste e resiste. Visita istituzionale del Presidente del Consiglio a San Giuliano di Puglia, Campobasso e Pozzilli. E all'Unimol, la firma del patto per il Sud, che vale 727 milioni di euro. Fiero e felice di essere qui, chiedo a questo Paese di essere più grande dei problemi che ha. Nessun accenno fatto al referendum. Poi più in basso troviamo anche qui i punti cardine, l'impegno, il risarcimento ai familiari delle vittime della Jovines, stato finora assente, pronti a riconoscere parte del dovuto. E poi frattura, abbiamo fatto scelte difficili anche in popolari, tenendo sempre la barra dritta. Qualità e non proclami. Infine nelle aziende, alla Molisana, mangia spaghetti tricolore. All'Unilever, selfie con gli operai, riparto più leggero ma carico di valori. E poi nel taglio basso, Termoli, donna scippata, troviamo quindi la cronaca, nel Borgo Vecchio, giovane fermato dai vigili e dalla polizia. E poi Campobasso, intitolazione dello stadio a Scorrano, la coalizione civica non ci sta, Romagnoli ha fatto la storia della città. E ancora nel taglio basso, ci si sposta poi in Abruzzo a Vasto, rete ospedaliera, sale la polemica per l'assenza dell'emodinamica al San Pio. E infine, fumata nera, troviamo lo sport. Anche qui il Campobasso rinuncia al ripescaggio in Serie C, a Liberti, riflessione ponderata di tutti i soci. Adesso andiamo avanti con la gazzetta del Molise, che apre anche esso ovviamente con la visita di Renzi nella nostra regione. Una pioggia di euro per il Molise, firmato il patto per il Molise, ora si tratta di investire subito e bene i fondi a disposizione. Nel taglio alto invece vediamo il consueto Oscar del giorno, che viene affibbiato al rettore dell'Unimol Gian Maria Palmieri, mentre il tapiro del giorno viene dato oggi all'assessore alla cultura del comune di Campobasso, Emma De Capua. Andiamo avanti con la gazzetta, leggendo le pagine interne. A pagina 2, il presidente della giunta regionale è costretto ad andare a prestito di luogo e di prestigio. Eleggiamo il rettore e l'università a paravento del nostro essere regione e popolo, sperando che nel tempo saremo capaci di conquistare una diversa considerazione e di farla valere, con l'arrivo di Renzi per la firma del patto per il Molise. Nel taglio alto invece i piccoli comuni rivendicano piena autonomia, intanto a coordinatore del lanci in Molise, nominato Lino Gentile. Proseguiamo a pagina 3. Un miliardo di euro per rilanciare il Molise-Renzi, la vera sfida per la regione. È stato sottoscritto ieri a Campobasso il patto per il Molise. Si tratta di soldi da investire in viabilità, ambiente, cultura e sviluppo. Colateralmente la questione, dopo la visita privata a San Giuliano di Puglia, il premier ha visitato il passificio La Molisana, prima di raggiungere l'aula Magna Unimol, per sottoscrivere il documento d'intesa con la regione. Andiamo avanti con Agenzia Stampa Molise Online. Renzi firma il patto per il Molise. La guerra del grano di Coldiretti arriva in Molise, poi Sernia raccolta differenziata porta a porta nelle borgate. Ancora Renzi in Molise parla scarabeo. Il mio auspicio è quello di far ripartire al più presto l'economia regionale. E ancora, Regione Molise ha approvato il calendario venatorio 2016-2017 e poi Italicum Nencini va modificato sistema bipolare finito, non si può ignorare rappresentanza. E infine mobilità sostenibile, nuovi contributi ai giovani per l'acquisto di biciclette. Proseguiamo con le principali testate nazionali, iniziando dal quotidiano La Repubblica, che apre con la Jihad uccide in chiesa. Si parla dell'ultimo attentato in Francia, Norimberga. Francia, padre Jacques, 86 anni, è sgozzato durante la messa. Il papa no all'odio. Holland vinceremo questa guerra. E ancora gli assassini, due ragazzi legati all'Isis. Uno era sorvegliato, il prete costretto a inginocchiarsi. Filmata l'esecuzione. E poi nel taglio basso troviamo un po' di politica. Bolorebbe fa Berlusconi, no a Mediaset Premium. E ancora Donati, pressione su di me per far perdere Schwarzer. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Pregiudicato Isis, ma libero, sgozza il prete sull'altare. Francia vicino a Rouen, l'ennesimo attentato e l'ennesima falla nella sicurezza. Il terrorista Adele lo aveva deciso dopo Charlie Hebdo. E ancora Franco Cardini, una crociata? No, una guerra moderna. Poi andando avanti nel taglio basso, assalto al Nazareno degli affari, scacco matto. Il finanziere francese Bollore lancia la scalata a Mediaset e affossa i piani del governo sulla banda larga. E ancora più in basso, dai maxi stipendi ai dirigenti senza incarico, perché la RAI non è la BBC. E ancora il beach volley, i compiti e i tipi in canotta, i divieti più pazzi d'estate. Proseguiamo leggendo la prima pagina del Quotidiano Libero. Che apre con occhio, ti sgozzano in chiesa, poi dicono che non è una guerra di religione. Due seguaci dell'Isis in Francia interrompono la messa per compiere il loro orrendo sacrificio umano sul sacerdote recitando un sermone in arabo. Uno era noto terrorista rimesso in libertà, Hollande balbetta, il paese lo accusa. E ancora il prete dissanguato, caro Papa è un martire, facciamolo almeno santo. Mentre nel taglio basso troviamo nessun risarcimento all'italiano ucciso in strada dal clandestino, non era abbastanza povero. Proseguiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. che apre anch'esso con l'Isis alla guerra di religione. Sgozzato il prete sull'altare Francia shock. La vittima stava celebrando messa, condanna dal Papa. Orrore, una violenza assurda. Islam moderato, se ci sei, batti un colpo. Mentre nel taglio basso, sud-est, sui binari, un'altra cordata pugliese, depositata una proposta di acquisto, ma va avanti comunque la cessione a Ferrovie dello Stato. Lateralmente invece Bolloré spiazza Berlusconi, stop a Mediaset Premium. Mentre nel taglio basso, Bari, violentata dall'ex fidanzato, le minacce ti rovinerò la vita, tirata con la scusa degli auguri. Proseguiamo adesso con il quotidiano a venire. Odio contro amore, assalto a una chiesa sgozzato, l'anziano prete, il Daesh, rivendica. Francesco implora pace, condanne sporadiche dal mondo islamico. Due giovanissimi estremisti di Rouen hanno preso ostaggi durante la messa e profanato il luogo, inneggiando al califato. Uccisi nel blitz, uno era in libertà vigilata. Hollande, questa è una guerra. Spostandoci nel taglio basso, una scintilla di mesi ricordi a partita la GMG, oggi il Papa. 500.000 giovani alla messa presieduta a Cracovia dal cardinale Zivitz. Proseguiamo adesso con lo sport, leggendo le principali notizie del Corriere dello Sport. Che apre con i cardi? Solo Inter. Milik è di Napoli. Maurito resta nederazzurro, avrà più soldi. Per Sarri, il centroavanti degli Ajax, è Tolisso. Iguain della Juve per 90 milioni, per Pogba allo United è questione di ore. Spostandoci nel taglio basso, lateralmente, De Laurentiis, il Pipita ha tradito un popolo, parla il presidente, nella sua scelta c'è tanta ingratitudine, un calcio che calpesta i sentimenti. Siamo una società di prima fascia, l'Europa è casa nostra. Coulibaly, falso problema. Ancora, Zeko, Roma, ti voglio portare in Champions, sia ancora Bonaventura, Milan al top con Montella. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Che apre con si accende la Juve in HD, il Pipita oggi a Torino, Paolo, subito in gol. La Juventus paga la prima rata di clausola al Napoli per Gonzalo, contratto di 5 anni a 7 milioni e mezzo di euro. a stagione. Intanto, l'altro argentino brilla nella vittoria con il Tottenham. E ancora, lateralmente, io, Totti, non ho fatto il nomade per soldi. E poi, nel taglio alto, troviamo l'Inter. Mancini e la società è una tregua armata. Leo e De Boer allertati. Oggi il tecnico sarà in panchina con le studi Nenes. Ausilio ha provato a rinunciare. Mancio non è convinto. e ancora Napoli prende Milik e rilancia 60 milioni per Riccardi ma Toir dice no. Spostando l'attenzione nel taglio basso, invece. Pogba da Murigno è questione di ore. Infine, Federer stop. Niente giochi. Il ginocchio dà ancora fastidio. Salterà anche gli US Open. Lo svizzero tornerà nel 2017. Il nostro appuntamento come sempre si conclude qui. Grazie per la vostra attenzione. Io vi lascio al Meteo augurandovi una buona giornata. Arrivederci. Il Meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per mercoledì 27 luglio. Dopo una mattinata generalmente soleggiata sul sud-est al pomeriggio un aumento della nuvolosità è atteso sulle zone interne con locali più vaschi o brevi temporali. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti settentrionali con mari localmente mossi sul versante adriatico poco mossi altrove. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Vediamole nel dettaglio Campobasso minima 18 massima 25 gradi Isernia minima 19 massima 27 gradi Termoli temperature comprese tra i 24 e i 27 gradi. il meteo e la famiglia torna a sorridere.